Migliaia di spettatori hanno assistito sabato a Frosinone alla Passione di Cristo, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco. Le emozioni suscitate dalla sacra rievocazione, storicamente accurata nei costumi, maestosa negli impianti scenografici, saranno difficili da dimenticare. Le vicende portate in scena infatti, pur lontanissime nel tempo, continuano a parlare al cuore di tutti noi. Giunta ormai alla quinta edizione, la manifestazione è stata inserita dall'Agenzia regionale del turismo della Regione Lazio tra gli eventi più legati alle tradizioni, considerata la forte valenza storico-religiosa e turistica. Piazza 6 Dicembre ha fatto da cornici all'ultima cena, in piazza Vittorio Veneto invece si è svolto il processo davanti a Caifa e l'impiccagione di Giuda. In piazza Santa Maria invece è stato allestito il processo davanti a Pilato, mentre in piazza Valchera la stazione raffigurante il sacrificio di Gesù con la crocifissione. Il successo della manifestazione, ha dichiarato il sindaco Nicola Ottaviani, risiede non solo nella bellezza delle scenografie e dei costumi o nella bravura degli interpreti, ma nel lavoro di squadra portato avanti da tutti i soggetti coinvolti. Uno dei motivi per cui la Passio Cristi Frusinate è stata capace di conquistare un posto di primo piano nell'ambito delle rievocazioni sacre di tutta la Regione, ha concluso il sindaco, consiste nel fatto che sia ambientata nel nostro suggestivo centro storico, ambientazioni di grande fascino che hanno certamente contribuito ad accentuare il valore emozionale della passione.